Il numero 30 è Ramon B, un maschio baio nato il 5 gennaio, figlio dello stallone americano Conway Hall, erede della famiglia degli Hall, che risale a Garland Lobel. La mamma è la fantastica Usa di Jesolo, la figlia di Dance Marathon, che ha prodotto una serie infinita di campioni in pista. Ramon B è infatti fratello del fuoriclasse Gambling B, vincitore del lotteria di Agnano di quasi 500 mila euro in carriera e detentore di un record di 1,113. Nella sua fantastica produzione Usa di Jesolo vanta anche gli ottimi Cartoon B, Dustin B, Easy the B e Mendez B, per somme vinte totali che vanno oltre un milione di euro.